Gattuso è indagato per riciclaggio di denaro. Le accuse all'allenatore del Milan coinvolto in un'inchiesta della procura di Ivrea che vede indagate 53 persone. Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, è indagato dalla procura di Ivrea per riciclaggio di denaro. Il rosso-nero era socio al 35% della ditta Treolmi SRL di Gallarate, che stando agli inquirenti non ha mai presentato i bilanci. Non è la prima volta che il ringhio finisce imbischiato in qualche malaffare, come quando nel 2013 venne accostato al tornado del calcio scommesse. Era il dicembre di quell'anno, gli agenti bussarono alla porta di Gattuso, indagato in inchiesta portata avanti dalla procura di Cremona. Ringhio si dichiarò subito estraneo ai fatti e, intervistato a caldo dai giornalisti, disse una frase che rimase scolpita nelle menti di molti in quel periodo. Se venisse dimostrato che ho truccato una partita, sono disposto ad andare in piazza. So di dire una cosa forte e ammazzarmi. Chi mi conosce sa che non ci sto a perdere neanche una partita, neanche a scopa con gli amici. A settembre dell'anno successivo l'inchiesta venne archiviata e Gattuso venne ritenuto estraneo ai fatti.